Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie della Ulissecraft Allora ragazzi, sto registrando subito dopo e sto facendo un po' di roba Come vedete qui abbiamo ufficialmente delle carote Questa cosa è fighissima dal mio punto di vista Perché adesso abbiamo un po' di cose indecenti Ora, queste non cresceranno molto velocemente perché sono seed abbastanza neutrali e tranquilli Infatti se voglio migliorare questa cosa ragazzi dovrò mettere questo seed insieme a quell'altro seed E potenziarli Per ora però mi interessa fare altre cose Quindi sono felice che questa cosa funzioni nel certo per certo Perché alla fine a me non importa breddare nulla Va benissimo in questa maniera Oddio, in realtà potremmo anche pensare di breddare qualcosa E infatti tipo potrei anche optare per questa soluzione Però al momento non so se mi conviene Nel senso, devo farla? Per forza? Oddio, potrei anche farlo perché Tanto non è che lo svantaggio ce l'abbiamo eh Siamo messi bene comunque quindi Questo se ne frega sinceramente se dobbiamo breddare e fare cose decenti Quindi qua ragazzi va a due Qua invece va uno, scusatemi E andiamo a piazzare quindi questa carrot seed E in teoria questo qua Insieme a questo qua Si andranno a unire qui dentro Ora, i seed vanno analizzati E quindi ho fatto anche un analyzer Non so se ci sarà una missione a parte in cui dovrò farla Però per il momento non c'è Io comunque devo fare un po' di missioni Però devo farla in off camera Quindi ci vediamo fra pochissimo Però avrò fatto questa Credo, anzi no Praticamente soltanto questa Per il momento Che è quella iniziale con cui devo prendere I 64 pressi di cove So che è una cazzata A proposito ragazzi Cosa interessante E molto, molto carina come cosa Siamo nel biome a deserto Questa significa che qui non pioverà mai E da un certo punto di vista è buono Ma tanti mob lo spawnano comunque Quindi sti cavoli Comunque sto trovando un attimo sopra ragazzi Perché sto Prendendo un po' di bone Visto che la mia arma Si è appena distrutta malamente Quindi vorrei ripararla Per poterla utilizzare di nuovo In teoria dovrei fare dei potenziamenti per l'arma Dopo vi spiego come si fa O prossima puntata Poi decidiamo Quindi ci risolvono ragazzi Ho potenziato il mio piccone Con aste ufficialmente Quindi GG come cosa Va benissimo Abbiamo completato questa quest E adesso dobbiamo fare una fornace Una fornace Dobbiamo farla magari qua vicino Qui comunque stanno crescendo ancora i seed Però non hanno ancora breddato là in mezzo Ci guardava parecchio per farlo In realtà credo si faccesse così Sono un po' con un lapsus in realtà In questo momento Se facevano o no così Bella domanda Comunque ho fatto una fornace Quindi ci sono Mi ha dato mezzo cuore E ora scopriamo se i cuori mi servono In questo caso ragazzi E ovviamente mi servono un cuore intero Quindi che diamine scopro Non scopro niente Anti-anti-build Che questo significa anti-anti-build ragazzi Non ho idea di che diamine siano sti blocchi Vabbè lo scopriremo La missione esatta cos'è Dobbiamo battere creeper Zombie Skeletree E ender bro Ender bro Ho capito perché ci sta Va bene Ovviamente dobbiamo essere Abbastanza lontani dalla base E devo fare una mod farm Azz Questa cosa potrebbe risultare abbastanza difficile Facciamo anche il primo momento Mi faccio il world interact Con il transfer node Visto che mi serve E visto che so che ci sarà Sicuramente un'altra mod Che mi chiederà di fare Visto che Fidatevi È una cosa che dovete fare Possiamo optare Per una soluzione molto figa Molto bella Allora mi servirebbe In questo caso Fare Allora vediamo un po' Dei piccoli cosi Che sono questi Perfetto In questa maniera E poi devo farmi così I nostri barrel Ok Dimmi No non si faceva così il barrel Oh Si che si faceva così il barrel Perfetto adesso non mi ricordo Forse era diverso Lapsus anche per quello E bar Oddio non dimmi Non ci sono Non c'è la giabba Ma no Giabba No regà Non c'è la giabba No Cioè Mi state deludendo così No regà Non si fa Non si fa E come Cristo la metto La roba lì dentro Credo ci sia un altro metodo Ok Prendiamo la soluzione Drowlers Che credo sia la migliore A questo caso Perché tanto non c'è Non c'è modo di fare diversamente Ragazzi Se un posto è costato A fare in questa maniera Così Boom Un hawk Drower Va bene Che ci servirà E ora Questa cobblestone In realtà io dovrei utilizzarla Quindi cosa significa Che devo mettermi qua E devo romperla E ci vorrà parecchio Perché forse Lo troverò un posto migliore Vabbè comunque Io la rompo Tranquilmente con un hammer E visto che ci sono magari L'hammer qui in wood Vabbè lo rompiamo subito Con soltanto due tocchi Perché tanto è distrutto E facciamo uno normale In cobblestone Che conviene Fidatevi Perché se no Ci metteremo un'eternità Un'eternità minimo A rompere tutto Quindi Bello farlo così In sostanza Questo è il metodo Che uso per piazzare Cobblestone Metterlo un po' A cavolo di cane Dopo ben 58 pezzi Di bellissima fantastica Cobblestone Trasformata in gravel Abbiamo questo ragazzi 58 pezzi di iron Che sono in totale 14 pezzi di ferro E sono abbastanza messo bene Peccato che ho trovato Un pezzo di lapislazzo Ne servono tipo un casino Manco immaginate Quante me ne servono Mi servono 4 Oddio non troppi In realtà Si per forza però E vabbè Quindi dovrò fare un po' Attenzione ragazzi A questa cosa Ma vedremo in futuro Come fare Più che altro Mi sa che adesso Fare un altro cobblestone Per forza Perché per fare Con la roba Che ci serve Per il prossimo futuro Ci serve per forza Fare un node Che si fa in questo caso Con della redstone Che non abbiamo in realtà Per nulla Quindi anche la redstone Bisogna fare La redstone si trova Non nella gravel Ma si trova direttamente Ragazzi Vi faccio vedere subito 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 Se riesco a trovarlo Dentro la dust Quindi dovrò un po' Lavorare E ho il 13% di drop Della dust Quindi ci può stare La fin fine E molto di più Rispetto agli altri polveri Sapete Oddio l'iron me lo da sempre Quindi per quello Che mi dava un sacco di roba Che mi dà forza Un pezzo di iron A prescindere Buona come cosa Comunque mi sono un po' Di pezzi di iron Quindi per ora faccio questi Vado a prendere l'altra Lapislazuli Spero di sì Perché io so che adesso Comunque sì Nel senso che Noi possiamo direttamente Andare a rompere La cobblestone E farla diventare gravel Però io prima Non ci sono riuscito Perché sono stupido E non ci ho pensato Ora mi è venuto in mente E quindi Ve lo dico Oh ragazzi Guardate qui Qui non c'era la carota Ora c'è Questa significa che Se io rompo questo Ragazzi Vado ad analizzare Dentro all'huggycraft Credo si chiamasse Analyzer Mi sa che però Mi manca qualcosa No la cazzata Si fa semplicemente Con il glass E quindi Insomma Non è difficile Basta fare Quanti stavano Sei Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque E sei Facendo così Abbiamo quindi Del glass Andiamo a cuocere E utilizziamo questo Per fare roba E così abbiamo L'analizzatore E ci vediamo Quanto aumenta Questa carot seed Perché ovviamente Ragazzi Dovete sapere Che hanno dei valori Però ora ve li spiego così Vi faccio vedere tutto quanto Trovate altri due pezzi Di lapislazuli Quindi siamo a tre Mi manca davvero pochissimo Per poter aumentare E finire la quest Quindi davvero manca poco Allora dicevamo Comunque noi Che dobbiamo farci Un po' di legno Velocemente Qui ho messo anche del legno No In realtà però C'ho gli stick Che mi servono Infatti Devo andare qua Facciamo direttamente così Facciamo un attimo Questo glass In realtà Facciamolo manualmente Perché se no Trovare il glass Giusto Ci mettiamo in eternità Io se ricordo bene Era così giusto Così 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 Questo qua E mi sa Facciamo così Vero No Devo fare così Con una slab Az Io la slab Però ce l'ho L'ho messa Mi sa Da qualche parte Qua vicino Ok eccola qua Di cobblestone Credo che vada Comunque bene Vero Sì Aspetta Due slab diverse Vero erano Sì Quindi se posso Significa di fare Comunque anche Le slab in legno Ma quelle ce l'ho Sicuramente Da qualche parte Ma ce l'ho Credo siano queste Sto lagando Facendo 15 fps Quanti mob ci sono Qui sopra ragazzi Porca vacca Dove toglierli un po' tutti Perché se no È un problema E così 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 Più questo ragazzi E ci siamo Eccolo qua Seed analyzer Ora Analizziamo questo seed Anzi andiamo giù ragazzi Così ci dà tutto quanto Pronto per bene E controlliamo un po' Come si è messi Allora questo qua ragazzi Messo qui Ci mettiamo dentro Il nostro seed E andiamo ad analizzare Quest'ultimo Vediamo un po' Quanta roba c'ha Questo seed ha 1-1 Quindi ha un growth 1 Gain 1 Di conseguenza Se io vado ad unire Questi altri semi qua Che sono comunque importanti Faccio vedere Questi qua è 1-1 Questi qua saranno Ovviamente lo stesso 1-1 Infatti 1-1 E 1-1-1 Quindi questi qua Sono uguali Va bene Quindi questi qua Li posso unire Questi hanno Crescita 1 Gain 1 Significa che Recupero stanto una carota Da questi qua E strength 1 Significa che Difficilmente Credo moriranno Cosa del genere Mi sembra E comunque Le prime due Sono i più importanti E i quali Mi dicono in realtà Che cosa Che cosa in sostanza Ragazzi Che con la crescita Io posso farmi Più roba E crescono più velocemente Col gain Recupero più roba Ogni volta che vado A prenderli Da dentro qui Quindi dovrò fare adesso Una cosa importante Dovrò potenziarli Utilizzando Il sistema Che vi ho mostrato prima In sostanza Che è quello Standard di dover potenziare Sempre i nostri semi E questa volta però Dovrò fare sempre Lo stesso modo Quindi mi sa che Dovrò fare di nuovo Questa roba Eccoli qua 7 Perfetto Quindi facciamo così Così Facciamo Velocemente Qui 1 Qui 1 E qua 2 Così sappiamo che dobbiamo Predare E quindi due breed Di questi qua 1-1-1 Ci daranno in teoria Un breed più forte O almeno Credo sia così Non lo sapremo mai Sinceramente Quindi lo scopriremo Pian piano Andando avanti Nella parte Che ci consegue E sono altre cose Che dobbiamo fare ancora Sono felice Di annunciarvi Che abbiamo tutto il necessario Al momento Per quanto riguarda Tutte le cose Che ci servono Quindi 4 pezzi Di lapislazzoli E il ferro necessario Infatti dovrò fare Un piccone in ferro Si ci sono anche I guantoni di ferro Ma non li faremo Sicuramente Questo ha sempre Durabilità 1 Quindi mettetevi in testa Ragazzi Che la durabilità Sarà sempre 1 Dovrì in poi Per quanto riguarda I nostri oggetti normali E io sbaglio sempre Il crafting Lo sapevo Io pensavo Vabbè Cosa volta Lo faccio bene E invece No ragazzi miei Perché sono sfortunato E lo faccio sempre male Quindi World in tract Fatto Che poi Quello che ci chiedeva Qui dentro Ora ci manco Stanto il transfer node Che comunque si fa Con la redstone Questo significa Che devo prendere Questa gravel Adesso E devo trasformarla In qualche maniera Utilizzando Un altro Hammer Devo fare un altro hammer Ah Altra cosa che potrebbe Aiutarci In realtà Non perdere roba Che è una cosa Particolarmente interessante Ora perché Dio santo ogni volta Che faccio qualcosa Si rompe O cade Tipo la cobblestone O la gravel Dentro la lava Quindi voglio fare Una cosa importante Ora Ovvero Un hopper Con un'altra chest Quindi serviranno Tre pezzi di Questa roba Perché ne fa Così per forza Non credetemi Perché Ma Quella roba Fa per forza Tre i blocchi Invece di farne quattro E ora Dovrò un attimo Optare Per scendere qua Perfetto Utilizzare questo Per poter fare Quindi questo E sotto Ci andrà Oddio Ci andrà un attimo Non la distruzione totale Fidatevi E ci andrà magari Qualche altro pezzo Perfetto Eh ho sbagliato In realtà devo farlo Un po' più alto Ma edizione Faccio così Eh ok Devo farlo così anche E bene E riesco a prenderlo No manco col cavolo Vedete Ok però è molto meglio Adesso perché Quando io vado a rompere Qua va bene Ovviamente tutto funzionerà Perfezione perché È come prima Però invece di Fuoriuscire la roba Va dentro l'ho Perché va dentro la cesta Quindi fidatevi Il fastidio è enorme È grande E posso utilizzare Questa cosa Per anche andare a Fk E rubare la roba A questo posto Anche se in realtà Rubare è un po' Termini è brutto Nel senso Posso fare La k E cliccione Con l'autoclicker Del mouse Molto utile Consiglio Allora ragazzi Ho fatto la redstone Quindi adesso Mi serve giustamente Un bel po' Di normalissima Wood Per farmi Velocemente Una di questa Perfetto Poi devo farmi Se ricordo bene Due pezzi di stone Ah no è vero Prima devo fare una cosa importante Devo fare Ovviamente questa roba Mi serve un attimo Un altro pezzo di stone Perfetto Eccolo qua Allora stone E questa roba Avevi pipe ragazzi Eh ah no è vero Prima dei pipe Cioè per fare i pipe Devo farvi questi Oddio erano tre Non erano sei Sono idiota Vabbè tre comunque di questi ragazzi Mi serve poi questi Ok Oddio in realtà potrei fare anche A me interesserebbe Fare quelli standard Ora che ci penso Va bene Due di questi Uno di questo qua sopra Due di questi qua Uno di questo qua sopra E questo qui ragazzi Boom Transfer note fatto Ora Abbiamo tutto il necessario Di edisi Perché abbiamo questo qui Il board interact Abbiamo anche il drawer E quindi abbiamo completato Ovviamente Anche le quest qua Quindi questa qua Abbiamo fatto Abbiamo sbloccato la beta Abbiamo sbloccato ragazzi Figata Quindi vediamo questa roba Questa cos'è Un andiamo on the end Che credo Faccia roba Non lo so Verra domanda E farmi pure Non c'è Dopo Ma nella beta Che abbiamo 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 roba Figa I seed analyzer Ragazzi Ve lo dicevo Che se c'erano In seed qua E va bene Quindi questa roba L'abbiamo già fatta Quindi ci siamo portati avanti Perché se abbiamo Questa cosa interessante Oh mio dio Devo fare una piattaforma qua Vabbè Vedremo Per ora Apriamoci queste due Una è good L'altra è basic Vediamo Wetstone Newspaper Va bene E un cooking for Blackhead Ah che bello Tutte le recipe Ragazzi Del cibo Oh ma che figa Possiamo cercarla Possiamo cercarla tramite nome O tramite saturation Quella che dà di più ragazzi È questa qua No In realtà quella che dà di più Sì È quella là Forse quella sotto Forse No quella lì sopra Ok questo panino Mi dà un botto di roba Però si fa con tipo Butter E cose strane Insomma Trovo complicato Ma non perdiamoci in chiacchi ragazzi Perché adesso dobbiamo montare Subito subito Il nostro coso Quindi andiamo velocemente Di qua Oh qua ha aperto ragazzi Ha fatto un attimo questo Vedete Bam Quindi possiamo di nuovo Ripiazzare dopo questa roba Però prima di tutto Analizziamo un attimo Questo seed ragazzi Seed è ancora di 1-1 Non crescono sti seed Maledetto Che palle che sei Devo far crescere Poi 6 seed Diamine Vabbè comunque ci penseremo Più avanti Non c'è un problema Ora andiamo qui ragazzi Che bisogna fare Bisogna Farsi Una cosa interessante Ovvero mettere Questo qua Mettere questo transfer node In questa maniera Va bene Qui dentro metteci Uno di world interact E la cobblestone verrà messa Qui dentro Ovviamente come state Leggendo lì sopra Per uno Cobblestone E ci sono soltanto Dieci pezzi di cobblestone Però questo può ottenere Fino a 32 per die 32 per 64 Stack Di roba Quindi ci sta ragazzi Una grande figata E ne lo utilizzeremo Per recuperare i cobblestone Come stavo dicendo Prima Ragazzi direi che per questo video Potrebbe essere anche tutto Noi ci vediamo presto A una nuvissima puntata Da lì si è tutto Ciao ciao E al prossimo video Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti